I progetti come quelli di vincere da grandi li chiamerei percorsi. Oggi grazie a questa possibilità di vincere da grandi possiamo fare entrare la famiglia in palestra. Una mamma che fa zumba, il papà che fa pesi, cinque figli che non pagano. Il corso delle mamme si può fare o zumba oppure sala, difesa personale. I ragazzi hanno avuto l'opportunità di fare sport sei giorni a settimana. Si parte dalla ginnastica, anzi no, il rispetto del capito. Non esiste uno sport senza regole e le regole insegnano a vivere e a rispettare i chiunque, tutti gli esseri viventi. Vincere da grandi, una vittoria che va al di là dello sport.